Si chiama La Casa degli Strani ed è un progetto realizzato dal Comune di Filina Incisa in collaborazione con l'Associazione Il Giardino e il Circolo Letterario Samuel Weiss con il supporto dell'Associazione Peter Russell per porre l'accento sul tema della diversità. Il tutto attraverso due azioni, la pubblicazione di un almanacco che sarà presentato al pubblico sabato 16 novembre e un ciclo di otto incontri che si terranno dal 18 ottobre al 15 maggio tra Filina ed Incisa. Gli strani di cui si parlerà durante i vari incontri e che sono protagonisti di tutti i racconti dell'almanacco sono gli emarginati della società contemporanea ma non solo. Gli strani alla fine sono coloro che magari per caratteristiche fisiche, per caratteristiche della propria indole, per carattere sono persone che sono qualificate come strane perché non conformi a quello che è il modello e lo standard a cui è abituato il contesto sociale di riferimento ma è un modo soprattutto per parlare delle differenze, delle diversità perché negli strani ci sono gli anticonformisti, ci sono le persone che magari hanno una caratteristica fisica diversa dagli altri come c'è il gobbo, c'è la donna grassa, c'è chi è eccentrico per attitudini personali, c'è chi per identità di genere è considerato diverso e soprattutto quindi questo è un modo per riflettere sulla diversità e per raccontare anche le nostre comunità attraverso occhi diversi. Sarà la pubblicazione di un almanacco appunto diviso con i vari mesi dell'anno dove in ciascun mese ci saranno dei racconti di autori italiani contemporanei e non. Come tutti gli almanacchi sarà arricchito da immagini perché questa è la caratteristica degli almanacchi. Per il dettaglio della rassegna di incontri a tema in programma il 18 ottobre, il 16 novembre, il 13 dicembre, il 31 gennaio, il 28 febbraio, il 27 marzo, il 24 aprile e il 15 maggio si rimanda al sito www.fiveventi.it